...delle risposte, delle esigenze, dei bisogni con quelle che sono le iniziative da intraprendere, quelle che sono le innovazioni dal punto di vista della tecnologia, quelle che sono anche le novità dal punto di vista della genetica per quanto riguarda gli animali. Ma la via è anche un'altra cosa, è il punto di incontro degli uomini. Gli uomini che vivono in campagna, che vivono del loro lavoro e che possibilmente per tutto l'anno magari si vedono solamente di più futili e qui alla fiera si ritrovano tutti come questa grande famiglia. E la Zotecchini e gli allevatori sono proprio questi, una grande famiglia. ...distruggere l'agricoltura in Sicilia e tutto quello che è accanto e parallelo ovviamente all'agricoltura siciliana. Io mi auguro che ci sia un momento dove si possa ricostruire un percorso diverso. Grazie a tutti.